Che cosa rappresenta per la città di Milano il Festival Fog della Triennale? È un festival che rispecchia l'identità di Milano perché è un festival fortemente legato a una vocazione internazionale, rivolto principalmente ai giovani, ai giovani studenti universitari, anche agli stranieri residenti a Milano perché gli spettacoli sono sovrattitolati in doppia lingua ed è anche un festival dedicato all'innovazione, all'esperimentazione, alla ricerca, quindi anche a quelle caratteristiche che fanno parte della storia di questa città soprattutto nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Qual è la peculiarità di questo festival per la città di Milano? Innanzitutto è un festival che incrocia teatro, danza, sperimentazione, linguaggi diversi, musica e lo fa con una grande attenzione al padronamento internazionale. Quindi da questo punto di vista io lo considero assolutamente un'eccellenza, quest'anno ulteriormente potenziata da presenze straordinarie, da Susan Kennedy, a Laurie Anderson, a Romeo Castellucci, alla giovane scena internazionale. Quindi è un orgoglio per Trennale ospitare questo festival. Devo dire che tra il teatro Trennale e la Trennale del suo complesso si è creata ormai un'identità totale di vedute, di valori, di progetti.